Un risultato che non arriva alla vostra squadra, tutto sommato abbiamo detto in telecronaca anche giusto perché nel secondo tempo di Siderno non è riuscito praticamente a tirare. Sì guarda, anche il campo ha inciso secondo me sia per noi che per loro, quindi bisogna dare atto e merito anche alla Regione Mediterranea che è venuta a fare la sua partita qua a Siderno, giustamente prima a difendersi e poi ripartendo in contropiede. Quindi era logico che fosse così. Noi purtroppo non siamo stati incisivi come al solito, ci prendiamo questo pareggio. E' mancato questo, dicevamo mancava la manovra, lancio continuamente sulle punte che faticavano a prendere il pallone. Sì, su questo campo è impossibile fare manovre, fare gioco, esprimere triangolazioni, quindi era l'unico modo per arrivare in porta. Loro sono stati bravi a difendersi, onore e merito anche a loro. Il guaio è che noi ci ritroviamo con due ragazzi che erano diffidati. Luciano penso che ha avuto un brutto incidente per l'entrata del numero 6. Una brutta entrata, devo dire. Con questo sport non hanno niente a che fare queste entrate, quindi bisogna fare molta attenzione perché si rischia di fare male ai ragazzi. Andiamo avanti per la nostra strada. Domenica andiamo a Scalea. Altro campo difficile. Molto difficile, però noi siamo abituati a lottare. La cosa positiva è che da tre domeniche non prendiamo gol. Rientrerà Manganaro che oggi era fondamentale in questa partita. Pazienza. Ci prendiamo questo pareggio e andiamo avanti. La vedo un po' amareggiata dal risultato del gioco. Sì, il risultato oggi dovevamo vincere. Oggi era fondamentale la vittoria. Valeva doppio oggi vincere. Quindi era una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Quindi sarebbe stato opportuno oggi vincere. E' andata così. Pazienza. Il calcio siamo abituati a lottare e a combattere. Andiamo avanti tranquillamente. Viste le condizioni del campo, pensate di spostare le gare interne in un altro campo, tipo Roccella, in zona? Sicuramente lo valuteremo. Io penso che questi eventi straordinari di maltempo devono cessare prima o poi. Quindi adesso avremo due trasferte. Quindi ritorneremo a giocare con il Cutro fra quasi un mese. Speriamo nel sole. Speriamo nel sole. Speriamo che si riprenda. Anche perché c'è l'impegno dell'amministrazione comunale di rizzollare il terreno di gioco dello stadio comunale. Quindi stiamo aspettando della sistemazione perché in questo campo non si può giocare. Noi facciamo sacrifici per portare avanti la squadra. Siamo in un campionato di eccellenza. Un campionato importante che bisogna giocare a calcio. E questo campo non ti consente di esprimere le potenzialità. Con un altro terreno la partita non so se avremmo potuto pure perdere sicuramente. Però ce la saremmo giocata diversamente. Dobbiamo pur dire che è stato un inverno abbastanza strano. Rigido e anche molto piovoso. Quindi come dire spezzare un pelino una lancia anche da questo punto di vista. Insomma il campo oggi davvero era difficile. Non dico la pesantezza quanto il fango distribuito nella parte centrale del campo. Mentre sulle fasce in qualche modo si riusciva a giocare. Per questo la squadra ha giocato con questi lanci. Cercando di sfruttare la profondità degli attaccanti. Giovinazzo, la stanza fisica di Filomeni. Poi è entrato anche Savasta. Abbiamo avuto qualche occasione. C'era qualche dubbio su qualche fallo di mano in aria da parte della Regione Mediterranea. Non lo so. Anche lì abbiamo gridato anche noi al rigore. Azione da rivedere perché era in fase di tiro. Braccio largo si è stampato contro il braccio. Quindi a nostro avviso era rigore. Però bisogna vedere le immagini. Noi andiamo avanti anche perché abbiamo avuto tantissimi rigori contro su situazioni analoghe. Quindi se era il rigore contro di noi penso che un rigore ci poteva anche stare. Pazienza e andiamo avanti. Tutto sommato l'arbitragio è stato normale. Sì, sufficiente tutto. Un arbitro che ha cercato di... Era una partita difficile da arbitrare. Non era facile questa partita di oggi.